Non è ancora certa la chiusura dal 26 di settembre dello svincolo Boccetta in direzione Palermo. Da lunedì 19 si sperimenterà il restringimento intergenziale lasciandolo aperto e se gli effetti non dovessero essere negativi il pericolo chiusura potrebbe essere scongiurato. Un esperimento che durerà una settimana. Al termine, secondo i risultati, si deciderà se chiudere o meno la bretella. Il test sulla viabilità era previsto a partire da oggi, ma dopo la seduta del Comitato Operativo Viabilità che si è svolta in prefettura insieme a Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Comune, ANAS e CAS, si è preferito posticipare. Il provvedimento della chiusura dello svincolo sarebbe necessario per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del viadotto ritiro. Se così dovesse accadere, sarà inevitabile un aumento di carico sul viale giostra ed è qui che serviranno altri provvedimenti, soprattutto nella parte alta del vialone dove già adesso si creano ingorghi a causa del parcheggio selvaggio, oltre ai problemi che si creerebbero nelle mattine in cui si svolgono i mercati rionali. Sulla problematica sono intervenuti anche i comitati La Nostra Città e il 9 aprile che dichiarano come Messina non si possa permettere di aggiungere a questa nuova emergenza quella dell'attraversamento del gommato per le vie cittadine e propongono di spostare a tre mestieri tutto il traffico leggero e pesante diretto da e per la Calabria. Intanto, fino a giorno 26, si continuerà a viaggiare regolarmente dallo svincolo.